È arrivato il corriere che ha portato i grattevinci nuovi perché erano rimasto senza. Il primo grattevinci venduto dalla nuova serie di Guada Fortuna ha fatto vincere 500.000 euro. Bene, naturalmente non ci dirà il nome, però ha un identikit? È un signor qua del paese. Anni più o meno? Tanti. Pensionato? No. Non è pensionato, è tanto. No, però è una persona, sono contento che li abbia vinti lui. Perché aveva bisogno? Sì, perché è una brava persona. Una brava persona. Sposato, famiglia? Una brava persona del paese. Ma ha offerto da bere? Sì, sì. A tutti quanti per due mesi? Ha fatto una nominata, due bottiglie pagate. Perfetto. Ma avete avuto altre vincite? No. Questa è la prima? Sì, quella rossa.